No! 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 Sta avvenendo oggettivamente molto bene, non potete dire no, sta avvenendosi veramente bene Ho i canali, non mi ricordo che ho altre modifiche, ho fatto altre modifiche i canali, li avete visti con quello scorso video? Non ho fatto altro, no Vabbè, ancora devo avere il feedback, però... Vabbè, sapete come la penso Detto questo, guardate un po' quel lavoretto là Sta piovendo e... vabbè, piove, non l'ha di particolarmente grave Vi faccio vedere un po' che cosa c'è qua dentro Allora, attualmente siamo ridotti così Parte interna qua, già coperta e tutto il resto Poi dovremo fare... e questo l'ho voluto fare di due, infatti probabilmente faremo anche questo di due Appena devo andare a distruggere una fortezza, riusciamo a farlo Stessa cosa di qua, ovviamente speculare Là sopra inizia la parte divertente Non so attualmente come salire Piedotti, addirittura i fulmini, bene, ottimo Quella roba là, vi volevo far vedere le torri Perché da lontano l'avete viste e si vede bene Qua devo cambiare alcune cose, mettere degli stone brick che attualmente non ho Non sto utilizzando ferro, non ho intenzione minimamente utilizzarlo per questa costruzione Però volevo farvi vedere che, bene o male, queste torri le ho staccate Vedete, ho rifatto, questa è la parte torre 1 Poi si stacca torre 2 Non so se mai ne faremo una torre 3, non credo attualmente È sempre attaccata ma per minima parte alla struttura principale Volevo fare un salto qua, vedere quanta roba c'è Notevole, notevole, not bad, not bad, not bad Va bene, molto molto bene Allora non so se ma, credo mi abbia colpito un fulmine Vi giuro Perché tipo ho saltato e ho preso danno Però non è successo niente di particolare Ma, vabbè, non lo so È strano che un fulmine ti colpisca Però, guardate che figata sti cosi Hop Che poi col boost posso saltarli tranquillamente così Anche se il ponte, secondo me, fa comodo Stavo prendendo l'occasione per, 1, uccidere bestie 2, per far spawnare, se magari dover riuscissi a far spawnare I cavalieri, quelli dell'apocalisse Perché, ovviamente, uno ci spera, no? Che ti spavano Perché? Ma guardate che fulminozzo la gasa La Rottenfresh ovviamente la buttiamo perché non mi serve una farm Quindi va tutto molto easy C'è uno scheletro che uccideremo malissimo adesso Anche knockback Ho per gli scheletri non è il massimo knockback, lo so Però ho il favore dell'altezza, infatti li massacro male Però ancora non l'ho trovato nemmai Non ho mai trovato i cavalieri dell'apocalisse Quindi, boh, io ci spero ovviamente di trovarli e tutto il resto Adesso, continuiamo a fare sta roba Andiamo in giro un po' Ora, stavo pensando anche per quanto riguarda il collegamento Ai cosi A sta roba qua Perché questo deve continuare Sarà largo 3 Girerà poi qui Ok, il canale penso possiamo farlo tranquillamente da ste parti Come farlo? Così È nell'attesa che ci spawni qualcosa Io direi che di stare qua a lavorare su sta parte Tanto qua i mob non ci dovrebbero arrivare Cioè ci arrivano Ma non possono spawnare Quindi già un vantaggio notevole Ok, questi li facciamo così Tac E poi qua, tutto avanti Ci facciamo la nostra bella Mori Zombie Ci facciamo il nostro bel canale Ok? Ecco qua Questo è quanto ho scavato La parte soltanto Ho messo l'acqua Adesso dovremo togliere proprio tutto rigorosamente Con il piccone Però bene o male ci siamo Fatto Ecco qua Ho fatto un casino qui Devo rimediare O mettere un po' d'acqua Perfetto Eh sì, ogni tanto mi capita di fare qualche erroretto Riesco a salire Oh, ecco Questa è forse problematica Perché non si riesce a salire da qua, no? Devo Necessariamente fare una roba di giro Che poi mi si bugga Tac Ah, ho sbagliato Porca troia E poi non si riforma L'acqua immediatamente Perché gli mancano i blocchi sotto Ok, perfetto Funzionato Va bene Guardate Ma si buggano un botto Cioè questi saranno bugati alla grande Rimettiamocelo qua E continuiamo Andiamo a vedere se magari è spawnato Qualcosa Nooo Ma tipo è successo adesso Guardate Guardate c'è un Mr. Creeper super caricato Che spettacolo Grande Ma tipo c'è successo 30 secondi L'avete visto cazzo è successo tanto a noi Non so se era proprio quello il fulmine Vi giuro è cascato un fulmine E è arrivato lui Ora Dobbiamo chiuderlo però in qualche modo Ci serve una name tag A livello velocissimo E non possiamo tenerlo troppo lontano Dobbiamo far avvicinare Perché se despauna son cazzi Cioè questa è fondamentale Che io utilizzi sto Creeper Grande Tanta roba Ok assicuriamoci che non ci sia niente Non dobbiamo Ecco con i canali forse è un po' più un casino No da quest'altra parte Devo andare Perché se no questo mi segue Grande Vieni qua Vieni qua bravissimo Bravo Bravo così Tac questo Gliela apriamo pure sta parte E lo faccio entrare No 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 Ma che cazzo sono ninja sti Creeper Porca troia Name tag Comunque io mi salto No ho finito le name tag Ma porca troia Ok Come lo chiamiamo? Cap Cap Tac Ah mi si è rotta anche la In video Vabbè fottese Non è un problema Non è un problema mio Adesso dobbiamo vedere Dove è il Creeper Perché io qua sono Quark Quark Sti che cazzo sei Che cazzo sei bestia Creeper Guardate che casino Guardate che ansia Ti odio Giuro lo odio Alla Cobblestone dove cazzo stava? Qui Qui c'era della Cobblestone Veramente c'era della Cobblestone No è impossibile Qua non c'era della Cobblestone Oddio devo riguardare le vecchie clip Non mi ricordo Aspettate un attimo Porca miseria Ecco questa è l'unica cosa che non ci voleva Il casino del Creeper Che mi viene a fare là fuori Il Mr. Creeper di merda Stonebrick No non i cracked Non i cracked Questi stonebrick Normali Adesso mi entra nel magazzino Immaginate il delirio Ok Questo è così Tac Questo lo leviamo E mettiamo questo qui Tac Ok Magari c'era questo qui Tipo Oh io non mi ricordo Cazzo Vi giuro non mi ricordo Devo guardare necessariamente le vecchie clip Perché se no Non lo riesco a capire Non lo riesco a rifare Questo era tipo messo così Una No Per l'altro verso Una e due Ok vai Steakipa Steakipa Vieni qua Steakipa Vieni da bestia Via 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 No l'ho messe male L'ho messe pure Madonna che palle comunque Veramente problematica come cosa Ok Dove cazzo sei? Creeper Ci vieni qua? Oh lui ha deciso che deve stare lì E io ti asseconderò pure Perché L'importante è che tu riesca ad entrare Adesso devo farti una trappola Vai Steakipa Creeper Vieni qua Il cazzo che ci casca però eh È bavoso È qua dietro Pienamente dietro Tipo Vieni qua Io ho paura veramente di utilizzare sto cosa Ho paura Creeper Creeper Vieni Cadi 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 Col cazzo che cade Oh no 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 è problematica Via Non esplodere bravissimo Entra Ciao ne Ok Abbiamo un Creeper in giardino Super caricato Con una Nintag Che non può despawnare Molto bene Non entreremo più nel nostro giardino Ok guardate un po' Cioè sta lì il Creeper Mi stavo togliendo tutta l'armatura A parte questo non posso togliermelo Ma perché sta qui il Creeper Che palle Ma perché io dico perché ti sei messo lì Cioè ti costava tanto Che ho anche paura stare là vicino Perché quello mi esplode e mi fa saltare mezzo casa Se chi fa Bravo Via 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 Ok buono Cioè io posso intrattenerlo oggettivamente così E preparare la trappola Mi son tolto tutto perché Ciao cane Perché voglio evitare Posso far casino e spaccare tutto E eccolo là il Creeper ozzo Ma allora io posso salire là sopra E intervenire in qualche modo Però certo so che non è facile So So perfettamente che non è facile Che cosa ci inventiamo Eh però in fin dei conti Due considerazioni alla mano Che ci frega Può restarli quanto tempo ci pare Noi abbiamo mille altre uscite Quindi devo ricordarmi soltanto di non entrare qua Nella speranza che lui si rintani da qualche parte Cada finalmente in quel buco Io posso chiuderlo E posso andare a fare tutte le belle cose Che mi servono Sì in effetti sì Si può fare E poi dovremmo trovargli un posto Nel laboratorio probabilmente Ora come facciamo a portare il laboratorio In verità ce lo potremmo portare anche adesso Nel laboratorio Forse io non so dov'è Porca miseria Vabbè tanto c'ho mille entrate E' fantastico stacca sto posto Perché puoi entrare davvero E uscire da dove ti pare Quindi non ci sono problemi Eh sta sempre qui Quindi l'idea sarebbe proprio portarlo nel laboratorio E fare E adibirgli proprio un posto Vediamo un po' eh Prendiamo il piccone questo E prendiamo questo qua Andiamo a vedere come Io non mi porto dietro adesso L'armatura per carità Perché quello mi massacra Poi la rovina Quindi vorrei evitare Andiamo a vedere dove poterlo lasciare Scendendo qui Il creeper super caricato Ovviamente Gli dovremmo dedicare un posto qua in mezzo Insieme a tutti gli altri mob Dato che è il mob forse più figo quello che abbiamo Cioè un creeper già ce l'ho E sta qui Qui c'è il ragno La strega I due zombie Lo scheletro E tutto il resto Però il più figo secondo me Potrebbe proprio essere questo qua Cioè il creeper super caricato ovviamente E io direi di adibirgli una cella Di tutto rispetto Ovviamente questa qua in fondo Per quanto riguarda gli altri mob Non so quando li prenderemo In tutti i casi potremmo fare magari un passaggio da un'altra parte E andarli a catturare E mettere poi da un'altra parte Facciamo la cella centrale Per il creeper super caricato Ecco tipo una cosa del genere Lo lasciamo qua Gli aviamo anche questi Poi Gli lasciamo Si lo allunghiamo proprio tutto Sta parte Lo Gli lasciamo una gabbia centrale In cui c'è lui e basta E poi dopo magari riprendiamo a farci A metterci altri mob Va bene Ragazzi Penso che per questo video possa essere tutto Vi ringrazio tantissimo Per la visione di lasciare mi piace Se il video vi è piaciuto Iscrivervi al canale Se avete fatto di condividere il video su facebook E per amici una persona Mi raccomando passate in tutti i link in descrizione Facebook, Instagram e Telegram Finalmente ce l'abbiamo fatta Ad ottenere un creeper super caricato E noi ci vediamo come al solito A un prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti